Buona giornata ai nostri telespettatori, bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Iniziamo insieme questa settimana, intanto ho anche la giornata, oggi è lunedì 10 ottobre 2022. Diamo un'occhiata a quello che dicono i giornali questa mattina per quanto riguarda la domenica e quindi il fine settimana che è appena trascorso. Vediamo l'almanacco e vediamo che oggi si festeggia San Daniele Comboni. Ebbene a considerare San Daniele Comboni vengono subito in mente i missionari comboniani. San Daniele fu un missionario in Africa, instancabile viaggiatore nel XIX secolo quando ancora c'era il mercato degli schiavi. Si dedicò al riscatto della popolazione nera e alla diffusione del Vangelo, condivise carestie e grandi siccità. E fornì l'esempio per molti i missionari che ancora oggi continuano la sua opera, non solo svolgendo un ruolo religioso ma anche un importante ruolo sociale e dico io anche politico in senso grande, in senso virtuoso. Facciamo anche una scarellata sulla regione per quanto riguarda il tempo. E vediamo che la grafica ci dice che sulla nostra regione ci sarà un'alternanza tra sole e nuvole. Questa notte su Fano ha piovuto, comunque continuano a restare nubi sparse, alternate a schiarite per l'intera giornata su tutta la regione. I venti saranno al mattino moderati e proveranno da est, al pomeriggio moderati e proveranno sempre da questa stessa direzione. Le temperature oscilleranno tra i 22 e i 15 gradi, le 22 le massime e ancora una temperatura mida rispetto della stagione e il mare è poco mosso. Ed ora vediamo anche dal vero quello che ci appare dall'alto di Monte Giove, il panorama di Fano. Vedete come il cielo è ancora grigio, il panorama è ancora grigio. Comunque è sempre bello perché quel velato colore di rosa che si vede all'orizzonte dovrebbe far sperare per una bella giornata, almeno così speriamo. Ed ora apriamo per primo oggi il resto del Carlino, in prima pagina. Il giornale appare come tutti lunedì in edizione sintetica, molto sintetica a carattere regionale e vediamo subito le notizie che vengono sintetizzate per Pesaro. Per Pesaro spicca la rivolta dei cittadini al Parco Miralfiore. Ieri c'è stata una manifestazione dopo una raccolta di firme, insomma si protesta contro il taglio indiscriminato delle piante. E poi il reportage sul vecchio Palace, l'hangar, così viene chiamato, è abbandonato e i lavori di ristrutturazione non partono mai. Poi per quanto riguarda la cronaca vediamo che il giornale evidenzia una truffa, una truffa che si è sverificata a Fano. Prendono casa in affitto ma in realtà questa casa non era disponibile. Ancona, Ancona si affaccia sulla scarpata del passetto e scivola, salvo per miracolo. A Fabriano, prenderemo poi in esame anche questa notizia, Suor Maria Costanza ora è beata e c'è stata una bella festa in Cattedrale. A Falconara si è dato l'addio all'ex sindaco Carletti, un personaggio storico della città, mentre ad Ascoli e a Fermo. C'è stata la cerimonia dell'ANMIL a Servigliano, l'ANMIL e l'Associazione dei Mutilati Invalidi sul Lavoro, che evidenzia come crescono questi infortuni. E poi ecco il nuovo campo da calcio, tribuna intitolata a Romandini ed infine a Porto Santo Elpidio. Happy Run Trio, c'è che ha corso anche sui tanti quasi 600 i partecipanti, una bella manifestazione sportiva che ha reso più viva e interessante la domenica. Apriamo il giornale e vediamo appunto su Pesaro l'articolo che riguarda il vecchio Palace. Il nuovo hangar, così come vi ho detto viene chiamato, giace in attesa dei lavori. Serve un altro appalto per l'impiantistica, ma intanto il cartiere e la struttura sono difesi da un esile lucchetto con ingressi senza porte. Insomma non c'è molta sicurezza per quanto riguarda l'interno di questo stabile. Si può lasciare un cantiere così, intitola appunto il giornale. I lavori di ristrutturazione del vecchio Palasport in via dei Partigiani sono bloccati da mesi. Non per caso è finito il precedente appalto che era doppiato rispetto al preventivo per il caro vita, per il caro anche delle materie prime, che da 3,7 milioni è arrivato a ben 6 milioni. E ora va fatto un ulteriore appalto di 3 milioni e mezzo per quanto riguarda l'impiantistica. Si arriverà così ad un totale di spesa di 9 milioni e mezzo, una cifra considerevole. Ma intanto il cantiere appare abbandonato, non c'è una chiusura sicura. Si vedono da fuori i quintali di materiale isolante e agcatastato sotto una loggia, accessi di fatto liberi, senza alcun tipo di barriere per bloccare l'ingresso della struttura, che quindi è alle merce degli estranei. E intanto qua vediamo invece la protesta che si è svolta ieri per il Miralfiore, per questo parco che è a margine della città, dove la natura, dice il titolo, viene dopo. Prima vengono altre cose, anche lo spaccio di droga per modo di dire. Chiediamo rispetto di tutto quello che c'è. Lo ha detto Andrea Fazzi, che è uno dei botanici più importanti, il quale esorta a mettere fine ai tagli di alberi senza alcun motivo. E poi c'è stata una raccolta di firme ieri mattina nel Prato, a sinistra dell'ingresso. Hanno fatto strage di alberi e cespugli in nome della sicurezza, ha detto il botanico. È stato uno scempio senza motivo vero. La manutenzione si è trasformata in un utilizzo sconsiderato delle trinciaerba, in modo da zerare specie vegetali di grande valore. E questo è un delitto di carattere ambientale. Ed ora diamo un'occhiata a questo episodio di cronaca che si è verificato a Fano. Falso affitto di un appartamento, ci credano in sette, raggiro da 10.000 euro. Hanno tutti risposto ad una inserzione sul web. I truffatori avevano preteso da ognuno un anticipo di 1.500 euro. Ebbene, il fatto è avvenuto in via Fratelli Zuccari, dove c'era un appartamento con due stanze, più cucina e servizi, al civico 34. In sette sono caduti su questa truffa, affittando l'appartamento sul web e pagando un congruo anticipo, quello di 1.500 euro. Ma perché tanti sono caduti in questa rete? Perché l'inserzione che era stata messa sul web parlava di un affitto molto molto conveniente, addirittura comprensivo delle bollette della luce e del gas, il che con tutti gli aumenti che vengono uno dopo l'altro in questi giorni, insomma la questione, se è bloccata, era molto molto importante. Tutti attirati dalla trappola del miraggio che le bollette di elettricità e gas, le cui tariffe con i tipi che corrono avrebbero potuto superare quella addirittura della locazione, sarebbero state invece comprese nel prezzo. E il prezzo era abbastanza conveniente. Sette vittime della truffa si sono incontrate nel momento di prendere possesso dell'appartamento, appunto in via Fratelli Zuccari. Qualcuno era addirittura intento ad aprire la porta, altri erano già dentro. E quando tutti si sono trovati meravigliati nello stesso appartamento hanno subito capito che erano stati presi di mira dai truffatori. I truffatori hanno ideato, messo in pratica l'imbroglio, sarebbero due uomini sulla cinquantina con spiccato accento pugliese, uno dei quali sarebbe già noto addirittura alle forze dell'ordine. La coppia ha ricevuto qualche giorno fa, in diverse fasce orarie e matutine, gli ignari aspiranti affittuari, tutti ben vestiti, con un sorriso rassicurante e dei modi gentili. In realtà erano dei malviventi. Insomma, occorre stare attenti quando si prendono in affitto queste cose sul web e si pagano conguli anticipi. Diamo un'occhiata anche all'articolo che vi ho segnalato prima, in prima pagina. A Fabriano, lo vediamo qui, è al centro pagina. A Fabriano, la cattedrale era gremita per la beatificazione di Suor Maria Costanza, una suora che ha vissuto la sua vita in clausura, ma ha fatto tanto del bene e a lei si attribuisce anche un miracolo. Un miracolo per quanto riguarda una bambina in tenera età che era affetta da una grave malattia. Ebbene, il suo ricorso, l'appello fatto nei suoi confronti, ne ha destato la guarigione. E quindi una grande suora. Una grande suora. Vediamo un attimo il solenne rito. È stato presieduto ieri nella cattedrale di San Venanzio di Fabriano dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del di Castero per le cause dei Santi. Con lui c'era anche il vescovo della diocesi di Fabriano Matelica, Francesco Massar. Presenti anche una ottantina di monache, 30 frati, 60 sacerdoti, 9 vescovi e 2 cardinali, oltre a tanti, tanti fedeli. Dunque una cerimonia solenne per la beatificazione di questa suora, suor Maria Costanza, che tanto ha fatto del bene nella sua vita. Ed ora apriamo il Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico, sulla pagina di Fano, parla del dissesto del territorio. Dissesto tra frane e fiumi intasati, individuati 9 punti a forte rischio. Ebbene, quest'articolo parla di tre eventi e di tre situazioni. Tre situazioni messe in luce da tre protagonisti. Abbiamo l'upus in fabula, che desta l'allarme per quanto riguarda la mancata cura del letto dei fiumi, e soprattutto degli argini e della vegetazione, che correda l'aspetto idrogeologico del nostro territorio. Poi abbiamo l'argonauta. Luciano Apogiani dell'argonauta, che nei giorni scorsi ha tenuto una conferenza a Casa Archilei, nel centro ambientale di Casa Archilei, dove ha messo in evidenza come il territorio di Fano ha 9 punti degni di essere qualificati. Insomma, anche qui c'è abbastanza incuria. E poi abbiamo anche un'iniziativa della Fondazione Carifano, che oggi, alle ore 17, nella Pinacoteca di San Domenico, organizza il primo di tre incontri su natura e ambiente. Interverrà oggi il climatologo Luca Mercalli, che darà la sua ricetta su come affrontare la crisi climatica ed energetica. Insomma, diverse appelli, diverse cause, diverse istituzioni, diversi cittadini che si uniscono per trattare lo stesso tema. È inutile intervenire poi quando l'emergenza è conclamata, occorre intervenire in via preventiva. E questo lo si deve fare quando la situazione è calma. Ebbene, dopo la tempesta, la situazione cerca di tornare alla normalità ed ora bisogna correre ai ripari. È il senso di questo articolo. A fondo pagina, invece, abbiamo una presa di posizione della Lega, la quale stimola la Giunta ad intervenire sulla grande rotatoria di Sant'Orso, dove confluiscono il traffico della superstrada Fano Grosseto, dell'autostrada 14, ma anche la viabilità cittadina, come la viabilità che proviene da Sant'Orso e quella che proviene dal centro storico di Fano, attraverso via Canale Albani. Il tracciato è condiviso da biciclette e auto con scarsa illuminazione. La Lega chiede interventi rapidi per assicurare la sicurezza intorno a questo punto nevralgico del traffico. Giriamo pagina. E qua vediamo la premiazione di letteraria. La cerimonia si è svolta sabato scorso nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna, gremita di pubblico, dove la giuria, composta dai ragazzi, dagli studenti delle scuole superiori della provincia, ma anche di fuori provincia, ha proclamato i vincitori scelti tra i dieci finalisti. Cinque per quanto riguarda la letteratura italiana e cinque per quanto riguarda i traduttori di quella straniera. Ebbene, il proclamato vincitore e star per la letteratura italiana è stato Andrei Longo, autore forte e imprevedibile che ha colpito i ragazzi per la sua drammaticità. Invece vincitore della sezione traduttori di letteratura straniera è stata Anna Mioni per gli osservati di Jennifer Pashley che ha prevalso su tutti gli altri finalisti. Ma soprattutto è stato anche uno spettacolo. C'è stata un'attrice che ha così iniziato la cerimonia con la lettura della prolusione al premio Nobel del 1993 della scrittrice Toni Morrison. E poi la serata è stata presentata da due ragazzi molto molto vivaci e anche ben impostati, Agnese Adanti e Luca Campanelli. E poi ci sono stati anche dei brani al pianoforte eseguiti da Fati Onzevi, insomma ragazzi protagonisti sabato sera. E molti ragazzi erano presenti anche domenica mattina alla camminata in rosa. Un successo questo. Mille persone, pensate, si sono radunate in piazza 20 settembre domenica mattina, hanno indossato la maglietta che ha distribuito l'organizzazione, molti erano prenotati, 700 magliette sono andate via, poi altre 300 persone si sono aggiunte all'ultimo momento per così testimoniare la necessità della sensibilizzazione per la prevenzione ai tumori al seno. Ebbene a quanto ha riferito il dottore Vincenzo Catalano che è uno dei medici più impegnati in questo settore, ha detto che il 17% delle donne dai 50 ai 69 anni non ha mai ancora eseguito una mammografia. E ci sono anche molte donne che dopo i 69 anni non hanno mai fatto alcun intervento di prevenzione. Quindi veramente c'è ancora molto da lavorare per la sensibilizzazione di questo male che ancora continua a mietere vittime, seppur in maniera minore rispetto al passato. Comunque è bello vedere questo lungo serpentone che si è dilungato per la città, dal Pincio alla passeggiata archeologica, alla zona Lido, in Sassonia, per poi risalire verso Viale Battisti e dove a Porta Marina i ragazzi della Università di Urbino hanno così valutato l'efficienza fisica di molti partecipanti. Insomma è stata una bella organizzazione. Ora passiamo a San Costanzo. A San Costanzo vediamo il sindaco Solcinelli con la sua giunta. Frazioni e centro storico, sindaco e giunta in ascolto. Ebbene bisogna stringere il contatto con i cittadini e dopo tre anni è ora di fare i primi bilanci e di andare a raccogliere le opinioni appunto dei cittadini. Comincia stasera al Circolo Acli di Stacciola il mini tour della giunta Solcinelli che in questa settimana si confronta pubblicamente con il suo operato e raccoglie un po' le istanze dei cittadini. Bene, male, fate questo, fate quest'altro. i contatti devono essere sempre presenti per un resoconto di quello che si sta facendo. A Pergola invece abbiamo un investimento di 95 mila euro per via Molino Torre. Sono conclusi i lavori di straordinaria manutenzione stradale. Ebbene gli interventi hanno riguardato via Molino della Torre e via Limitrofe per un investimento da parte dell'amministrazione comunale di 95 mila euro. Sono gli ultimi di una lunga serie di interventi voluti dalla giunta Guidarelli. Giriamo ancora la pagina e vediamo Senigallia. A Senigallia fioccano le disdette negli alberghi. Dopo l'alluvione la città va quindi promossa e messa in sicurezza. Tra una settimana si svolgeranno gli stati generali del turismo e quindi gli operatori potranno dire la loro, anche dare delle indicazioni su come risorgere dopo la grande tempesta che ha colpito buona parte della provincia di Ancona e parte della provincia di Pesaro. Un segnale di ripartenza. È pronta la città per gli stati generali del turismo in programma dal 17 al 22 ottobre ma i gruppi che avevano prenotato per ottobre e novembre hanno disdetto e quindi ci sono state le disdette negli alberghi. Vediamo anche qualche notizia di sport. Sono state due belle vittorie quelle conseguite dalla Vis Pesaro e dall'Alma Fano ieri per i loro rispettivi campionati però ci sono stati molti infortuni e questo è una cosa negativa. Visse tre punti di grinta, dice oggi il Corriere Adriatico. Decide nella ripresa il gol di Fedato, l'avversario era il San Donato e arriva una vittoria pesante contro il San Donato Tavernelle. Si riempie l'infermeria purtroppo. Rossoni out dopo un colpo alla caviglia. Mercandella deve uscire in barella. Ci sarebbero tre infortunati per quanto riguarda la Vis. E poi invece per quanto riguarda il Fano il Fano vince con il confronto con il Roma-Siti addirittura per 2-0 ma anche qui c'è un grave infortunio. Anche il Roma-Siti si deve arrendere al Mancini. Nella ripresa decidono i gol di Pensalfini e Broso. Il Granata però perdono ben tre giocatori per il fortunio. Il più grave è Padovani che rischia diversi mesi di stop e c'è una rottura probabilmente dei legamenti. Così ha decretato il dottore che l'ha visitato ma ovviamente gli accertamenti devono essere ancora compiuti. A questo punto diamo un'occhiata anche alla pagina regionale del Corriere Adriatico. Buon viaggio onorevoli. Dalle Marche a Roma con libri e gli amuleti. Tutti sono in fase di partenza. Stanno per raggiungere la capitale per la prima seduta del Parlamento, quella del Senato e quella della Camera. Ebbene c'è chi si prepara così affittando un appartamento a Roma, chi porta con sé le sue valigie con libri, effetti personali, addirittura anche cornetti, così come ha fatto il nuovo deputato Mirko Carloni. Lo vediamo qui. Un cornetto rosso che mi ha dato mia sorella sarà il mio amuleto di buon auspicio, ha detto Carloni. Ho già preso un appartamento per il territorio. La mia famiglia resta invece a Fano, ma verranno già questa settimana a trovarmi per l'insediamento. Nel frattempo a fargli compagnia ci passerà appunto questo cornetto rosso che gli ha regalato la sorella, perché la buona sorte, ha detto Carloni, non è mai troppo. Beh, non c'è certe dose di superstizione ovviamente, così scherzando non fa mai male. E qua abbiamo una panoramica di tutti i deputati e senatori che rappresenteranno le marche in Parlamento. Vi ripeto i nomi, abbiamo Giorgia Latini della Lega, Giorgio Fede, 5 Stelle, Irene Manzi, Partito Democratico, Guido Castelli, senatore di Fratelli d'Italia, poi abbiamo Elena Leonardi, senatrice di Fratelli d'Italia, Mirko Carloni, rappresentanza di Fano e della nostra provincia, deputato della Lega, Lucia Albano, deputata di Fratelli d'Italia, Roberto Cataldi, senatore del Movimento 5 Stelle, Augusto Curti, deputato del Partito Democratico, Antonio Baldelli, di Fratelli d'Italia, Stefano Benvenuti Gostoli, deputato di Fratelli d'Italia. Questa è la squadra che doveva rappresentare la nostra regione. Il Corriere Adriatico, dicevo, dedica una pagina intera alla beatificazione di madre Costanza, che guarì una neonata. È stata la penna di Dio, ha detto il Cardinale Semeraro, inviato dal Papa. Ebbene, qual è il segno di questa beatificazione? Si dice che occorre che ci sia stato almeno un miracolo per decretare appunto un beato, un santo. Il decreto è stato firmato dopo aver accertato la guarigione di una neonata oggi adulta e presente alla celebrazione di ieri. Si trattava di una neonata di San Severino Marche affetta da una grave sofferenza fetale, da anemia feto-natale ed emorragia cerebrale, insufficienza di molti organi. E la poverina era messa molto molto male, ma una intercessione di madre Costanza l'ha ridata al vigore e alla salute. Beh, insomma, una bella storia. Reddito di cittadinanza. Così non va. Occupabili solo uno su quattro trova impiego. Il monitoraggio dell'Ampal traccia il quadro della misura della nostra regione. Un quadro che già si sapeva, ma ora con l'evidenza dei numeri acquista più rilevanza. Il benefit in cifre. Il 28,3% dei beneficiari del reddito di cittadinanza che hanno trovato lavoro, 28,3%. Chi sono gli occupati? Il 16,4% sono donne, il 25,9% sono uomini. E poi per età abbiamo un 18,3% fino a 29 anni, un 24 dai 30 ai 39, un 24,5 dai 40 ai 49, poi si scende, un 19,9 dai 50 ai 59 anni, un 14,5% oltre ai 60 anni. Comunque rimane sempre molto basso la percentuale, il numero di coloro che trovano un impiego oppure accettano un impiego dopo le proposte che vengono fatte. Ed ecco la protesta che è stata fatta ieri per il Parco Miralfiori. Vediamo qui anche delle fotografie. Sono molti le persone che hanno partecipato a questo evento, a questa manifestazione. Ora basta, dicono, il Parco esige rispetto e il messaggio è quello dei manifestanti. Addirittura ha scritto in questa fotografia. Ora basta, il Parco esige il rispetto, hanno detto appunto i manifestanti. Ci bollono come dei fanatici perché amiamo il Miralfiore, hanno detto ancora. E poi la raffica di incarichi a Marche Nord non soddisfa il sindaco di Bombaroccio, Emanuele Petrucci, che scrive ai vertici regionali tutto a due giorni dall'ultima tornata elettorale, dice il sindaco. Insomma, subodora una manovra strumentale, però ovviamente la sua presa di posizione. Ebbene, questa era l'ultima notizia. A questo punto non mi rimane che darvi appuntamento a domani alle ore 7, mentre per le notizie del giorno alle ore 20.30 sul Tg Occhio alla Notizia di Fano TV. Grazie per l'ascolto. A risentirci. Sì, Grazie a tutti.